Il Taormina Film Fest compie 60 anni e lo fa festeggiando nel segno delle donne, da Pamela Anderson, resa celebre dalla serie televisiva Baywatch, all'icona del cinema italiano Claudia Cardinale, alle bellissime Margaret Made e Valeria Solarino, quest'ultima nata in Venezuela, ma di padre siciliano. Io vengo scelta molto spesso anche per interpretare personaggi di donne del sud, anche se noi siciliani facciamo bene attenzione a dividere appunto la Sicilia, la Calabria, la Puglia, insomma il sud è molto variegato. La presenza di Claudia Cardinale coincide anche con la mostra sui 50 anni del gatto pardo, come spiega la curatrice Caderina D'Amico. Il gatto pardo sicuramente è un patrimonio dei siciliani, ma come tutte le vere grandi opere d'arte è un patrimonio dell'umanità. Dai pregiati abiti di scena del celebre film di Lucchino Visconti si passa alle scenografie del premio Oscar Dante Ferretti, che con sua moglie Francesca Lo Schiavo ha presentato al pubblico di Taormina i leggendari film ai quali hanno lavorato con grandi registi come Federico Fellini e Martin Scorsese. L'altro ricordo, sono venuto su, è arrivato subito, e quando abbiamo fatto, quando ho fatto il primo film di Scorsese, l'età dell'innocenza che sono io l'innocenza. Nei prossimi giorni sono attese altre celebrità internazionali e italiane, tra queste Boderek, Paola Cortellesi, Cristiana Capotondi, Eva Longoria e Melanie Griffith.